Dal 14 settembre riscopre il fascino di vedere il cinema al cinema. Ogni secondo mercoledì del mese il biglietto costa solo 2 euro, a qualsiasi orario, in tutta Italia. Cinema Today, al cinema, è un'altra storia. È un'iniziativa promossa in collaborazione con i produttori, distributori ed esercenti cinematografici dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Tutte le informazioni e le sale aderenti su www.cinematoday.it Grazie a tutti.